buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno e buona settimana cari amici ascoltatori dell'oroscopo settimanale siamo nella settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023 e volevo chiedervi come sta andando dopo una prima settimana con saturno nel segno dei pesci vi ricordo che dopo due anni e mezzo di permanenza nel segno dell'acquario ora saturno si è trasferito nel segno dei pesci dove rimarrà per l'appunto altri due anni e mezzo circa ovviamente adesso è all'inizio del segno quindi la sua presenza sta influenzando chi è nato all'inizio nei primi giorni dei segni seguenti nel bene saturno influenzerà soprattutto i segni d'acqua anche se sul segno dei pesci potrebbe avere un effetto un po controverso perché allo stesso tempo saturno porta stabilità ma anche il la necessità di rinunciare a qualcosa di limitare limitarsi magari si tratta di qualche tratto del carattere o magari invece della necessità di ridurre del tempo dedicato a qualcosa oppure di limitare le spese eccetera saturno come stabilità progressi lenti ma costanti e duraturi come struttura quindi influenza positivamente pesci scorpione e cancro ma anche capricorno e toro chi invece ha saturno contro sono vergine sagittario e pesci ovviamente la sua influenza come ho detto all'inizio riguarda soprattutto chi è nato all'inizio di questi segni quindi ha il sole all'inizio di questi segni oppure a dei pianeti nei primi gradi di questi segni fatemi quindi sapere se appartenete a questi segni e siete proprio nati all'inizio fatemi sapere se già sentite l'effetto saturno sia nel bene che nel male con saturno contro perché comunque saturno porta sempre delle lezioni di vita di saggezza quindi non spaventatevi se avete saturno contro magari si tratta di un periodo un po difficile un po' faticoso in cui appunto dobbiamo assumerci più responsabilità o dobbiamo limitare alcune delle nostre attività o delle nostre libertà però comunque è sempre un transito che ci porta conoscenza saggezza capacità di comprendere più a fondo più profondamente la realtà della vita ecco saturno come principio è proprio il principio di realtà e come principio di realtà saturno ci toglie un po' le illusioni le illusioni che abbondantemente dispensato nettuno nei pesci negli ultimi anni quindi se appartenete soprattutto a pesci gemelli sagittario e vergine sarà un ritorno alla realtà e a lasciare andare le fantasie i sogni troppo campati per aria le illusioni e quindi tornare a quello che concretamente si può fare ma vediamo quali sono le novità astrologiche di questa settimana abbiamo infatti l'ingresso di due altri pianeti in nuovi segni ovvero venere dopo essere stata in ariete per poco più di venti giorni entra nel segno del toro ed è un passaggio molto fausto questo perché venere governa il segno del toro quindi la sua influenza sarà un pochino più forte e ovviamente riguarderà soprattutto chi appartiene ai segni di terra ma anche a pesci e cancro venere in toro rappresenta la sensualità la capacità di godersi la vita la capacità di guardare alle anche le piccole cose apprezzarle quindi rafforza il senso estetico rafforza anche l'autostima di questi segni che ho appena nominato invece chi appartiene a scorpione leone e acquario potrebbe provare una maggiore insoddisfazione durante questo periodo periodo che va dal 16 marzo all'11 aprile che cosa porta una venere contro tra virgolette sempre porta una sensazione di non essere sufficientemente apprezzati sufficientemente amati sufficientemente coccolati quindi ci sarà voglia di trovare una compensazione a questa presunta mancanza di amore di affetto eccetera e quindi magari porta a voler spendere un po di più quindi a eccedere nelle spese o a lamentarsi col partner perché non ci si sente abbastanza considerati questo appunto riguarda soprattutto scorpione leone e acquario mentre gli altri segni che ho citato prima ovvero i segni di terra ma anche pesci e cancro rifulgono maggiormente di charme in questo periodo poi abbiamo questa settimana un altro ingresso si tratta di mercurio che entra in ariete e lo fa domenica 19 di prima mattina le 5 23 mercurio è entrato nel segno dei pesci il 2 marzo e quindi già il 19 se ne va ed entra nel segno dell'ariete mercurio non si trova benissimo in questo segno che è un segno impulsivo vitalistico non cerebrale come vorrebbe mercurio ma anche la nostra intelligenza la nostra percezione della realtà e anche la nostra comunicazione assumeranno quindi dei tratti un po più arietini quindi più di impulsività bisogna fare attenzione a quello che si dice perché potrebbero sfuggire cose più facilmente del solito e ancora più facilmente se si appartiene a bilancia cancro e capricorno nonostante questi siano segni di solito molto riflessivi ebbene si faranno influenzare dalla posizione dissonante di mercurio in ariete potrebbero diventare un po troppo audaci con le parole e appunto pentirsi dopo di quello che hanno detto anche la disattenzione è più forte in questo momento per questi segni mentre invece mercurio in ariete velocizza sicuramente i processi elementali dei segni di fuoco quindi ariete leone e sagittario ma anche di acquario e gemelli e dopo aver visto una panoramica di quello che succede durante questa settimana andiamo a vedere segno per segno che cosa succede prima di iniziare la rassegna zodiacale però vi dico anche che la luna parte dall'ultima sezione l'ultima decade del segno dello scorpione e arriverà domenica all'inizio del segno dei pesci quindi sostanzialmente attraverserà l'ultima parte dello scorpione sagittario capricorno e acquario per arrivare all'inizio dei pesci quindi vediamo cosa succede agli amici dell'ariete vi ricordo che in ariete c'è giove in questo momento che sta attraversando la seconda decade si sposta dai 14 ai 16 gradi del segno giove è una presenza sicuramente molto importante espansiva ci aiuta a credere in noi stessi a essere più ottimisti e questo ovviamente porta fortuna la cosiddetta fortuna di chi è più aperto alle possibilità della vita quindi sicuramente gli appartenenti alla seconda decade dell'ariete stanno sperimentando questa questo effetto giove molto importante con alcuni colpi di fortuna con una disposizione verso la vita molto positiva che ovviamente vi porta a essere nel momento giusto nel posto giusto come abbiamo visto anche mercurio domenica entrerà nel segno però in realtà comincerete a sentire a sperimentare questa presenza dalla settimana prossima per voi è molto più interessante il transito di marte in questo momento che sta attraversando l'ultima decade dei gemelli ed è quindi in buon aspetto al vostro segno dando a chi appartiene alla terza decade dell'ariete una particolare grinta una voglia di farcela una voglia di agire di essere molto proattivi questo aspetto riesce anche a neutralizzare l'aspetto dissonante di plutone che ancora un po sentono le persone che sono nate negli ultimi due giorni del segno mentre plutone sta cominciando invece avere un buon un buon effetto su chi è nato all'inizio del segno dell'ariete quindi nei primissimi giorni dell'ariete e in questo caso porta forza di volontà ma soprattutto una maggiore consapevolezza delle proprie risorse dei propri talenti la prima decade non ha altri transit importanti in questo momento ma nei prossimi anni sarà molto importante questo aspetto di plutone per rafforzare l'identità rafforzare la sicurezza in se stessi a livello emotivo la settimana sarà piuttosto buona intanto inizia sostanzialmente con una luna in sagittario dalle 8 e 20 della mattina di lunedì quindi un segno alleato e quindi iniziate col buon umore con una buona disposizione d'animo attenzione solo nelle giornate tra mercoledì pomeriggio e venerdì pomeriggio perché la luna in capricorno vi potrebbe causare qualche irritazione qualche conflitto con gli altri ma il buon umore ritorna senz'altro dal pomeriggio del venerdì per tutto il weekend e gli amici del toro saranno impazienti di accogliere venere nel loro segno entra nel toro giovedì 16 alle 23 34 quindi sarà sostanzialmente dal venerdì che cominceranno a percepire questo questa rivitalizzazione perché venere è uno dei vostri pianeti governatori cari amici del toro adesso nel segno avete già urano urano rimane sette anni in ogni segno quindi in questo momento sta attraversando la seconda decade e sta dinamizzando forse in modo a volte un po eccessivo chi di voi appartiene alla seconda decade però vi sta anche dando una bella mossa ecco venere arriva un po ad armonizzare il tutto a ricordarvi quali sono i vostri talenti che sono talenti artistici o comunque legati ai ritmi della natura agli ambienti naturali anche all'armonia tra le persone quindi per quasi un mesetto potrete approfittare di questo transito di venere che vi dà sicuramente anche maggiore sex appeal più più fascino nel frattempo anche i transiti dei pianeti in pesci quindi saturno che sta agendo su chi di voi è nato all'inizio del segno ma anche nettuno e il sole che invece sono nella terza decade stanno dando tanti input a voi amici del toro sia dal punto di vista della creatività della fantasia ma anche della rivitalizzazione e anche del saper consolidare i vostri progressi a livello emotivo attenzione la settimana forse sarà un po ballerina o meglio il vostro umore sarà un po ballerino perché inizia intanto con una luna in scorpione di prima mattina ma comunque passa subito in sagittario la luna che è un segno neutro sarà saranno molto positivi i giorni dal pomeriggio delle mercoledì al pomeriggio del venerdì perché c'è una luna in capricorno quindi vostra alleata mentre attenzione soprattutto al weekend quindi dal pomeriggio del venerdì fino a quasi tutta la domenica perché la luna in acquario che è un segno dissonante in una posizione dissonante rispetto al vostro segno e quindi potrebbe provocarvi qualche calo di umore qualche calo di vitalità anche approfittatene quindi per riposarvi durante il weekend arriviamo agli amici dei gemelli che dopo aver approfittato per parecchi mesi di transiti molto positivi adesso stanno sperimentando le prime limitazioni di saturno anche i periodi in cui il sole transita nei pesci non sono il massimo per i gemelli potrebbero emergere un po di malumori un po di senso di stanchezza anche sia mentale che fisica inoltre per chi di voi della terza decade diciamo che sta subendo da parecchio tempo il la dissonanza di nettuno che potrebbe portarvi un po fuori rotta rispetto a quello che vi eravate messi in testa ai vostri progetti e anche vi dà delle illusioni vi procura dei sogni troppo fuori dalla realtà è vero che marte vi ha aiutato a lungo dall'anno scorso da fine agosto fino a sostanzialmente alla fine di questo mese di marzo avete marte che sta in questo momento transitando nella terza decade ma che ha a lungo beneficiato chi di voi era anche della prima della seconda decade e quindi vi ha dato tanta energia tanta vitalità tanta forza di volontà con cui avete potuto superare tutti i vari impasse della vita giove in un segno amico quello della riete vi aiuta comunque a mettere a segno qualche buon colpo di fortuna e questo riguarda la seconda decade quindi se dovete fare colloqui di lavoro esami cioè siete molto protetti dalla fortuna della dea bendata e non da subito perché per buona parte della settimana come abbiamo visto mercurio è ancora nel segno dei pesci quindi vi crea un po di confusione mancanza di lucidità facilità a fare gaff per esempio ma da domenica già le cose cambiano e potrete recuperare sicuramente la vostra lucidità mentale e anche la vostra parlantina la prima parte della settimana non sarà il massimo dal punto di vista emotivo sostanzialmente con la luna in sagittario che è il segno opposto al vostro potreste avere veramente dei momenti down dal punto di vista della percezione dell'ambiente intorno a voi lo potreste sentire particolarmente ostile che non è poi così ma è una vostra percezione e questo sarà evidente soprattutto da lunedì a mercoledì le cose migliorano notevolmente con il pomeriggio di venerdì quando la luna entra in acquario un segno fratello per voi per cui recuperate sicuramente vitalità voglia di fare le cose voglia di vedere gli amici e quindi potete concludere la settimana in bellezza gli amici del cancro sicuramente stanno cominciando a sentire un po di aria nuova intanto le ultime settimane sono state all'insegna del passaggio dei pianeti nei pesci quindi un segno fratello un segno amico e adesso con saturno in questo segno comincia veramente un'opera di ricostruzione per voi che appartenete al segno del cancro il passaggio di plutone nel vostro segno negli ultimi 15 anni ha praticamente spazzato via sovvertito tante situazioni che probabilmente erano stagnanti anche se era difficile capirlo in quel momento quindi adesso è veramente il momento di ricostruire tutto cari amici del cancro questo mese avete veramente tante tante frecce al vostro arco e per tutti ce n'è per tutte le decadi capacità di riprogrammarsi riprogettare per chi appartiene alla prima decade un'incredibile inventiva e audacia nelle proprie decisioni soprattutto di lavoro ma anche di studio o nelle situazioni personali per chi appartiene alla seconda decade e per chi è della terza decade tanta inventiva creatività e capacità dialettica chi appartiene alla seconda decade faccia solo attenzione che con la dissonanza di giove potrebbe diciamo avere un po troppa voglia di esagerare di andare un po oltre le proprie capacità quindi fate sempre attenzione è vero volete rinnovare tutto volete lanciarvi però misurate prima bene i passi che dovete fare prima di buttarvi a livello emotivo la settimana sarà un po neutra la luna entra subito lunedì in un segno neutro e dal mercoledì al venerdì sarà nel segno opposto al vostro per cui forse in quelle giornate ci sarà un po di down energetico un po di malumore vedrete le cose in modo un po negativo ma non vi preoccupate poi ritornate con l'umore in alto dal pomeriggio della domenica e tutta la prossima settimana gli amici del leone respirano un po di più ora che saturno si è tolto dalle scatole quindi ha finito di fare l'opposizione che ha fatto al vostro segno per più di due anni e quindi vi sentite sicuramente più leggeri il transito di giove vi sta dando nuove energie nuove speranze nuova volontà di andare avanti e anche molto ottimismo e questo in questo momento riguarda soprattutto chi di voi appartiene alla seconda decade che però è ancora un po vessata da urano che invece combina qualche scherzo diciamo che urano porta delle novità inaspettate e quando è in dissonanza come nel vostro caso le novità potrebbero non essere delle migliori potrebbero riguardare qualcosa che vi complica la vita da domenica anche mercurio si pone in aspetto positivo al vostro segno per cui avrete sicuramente un rinnovamento di energia mentale e potete approfittarne per infondere nuova vitalità al vostro lavoro agli studi ma anche alle vostre amicizie i movimenti della luna sono soprattutto favorevoli all'inizio della settimana quindi dal lunedì al mercoledì neutre le giornate dal mercoledì al venerdì e mentre attenzione perché dal pomeriggio del venerdì al quello della domenica la luna nel segno opposto potrebbe oscurare un po il vostro umore prendete le cose in modo rilassato è l'unico modo per la vergine che ha beneficiato a lungo dei transiti positivi di plutone e di urano e ovviamente sono ancora attivi urano in questo momento sta dando energia dinamismo vitalità voglia di rinnovare a chi è nato nella seconda decade mentre plutone sta ancora dando forza di volontà e forza di credere in se stessi a chi è nato alla fine del segno ma cari amici della vergine state sperimentando il passaggio annuale del sole nel segno opposto e quindi spesso anche dei pianeti veloci in questo caso mercurio ancora fino a sabato si oppone a chi di voi è nato soprattutto nella terza decade ed è arrivato saturno che è un po un esattore delle tasse in un certo senso viene a verificare se avete costruito su un terreno solido o invece sulla sabbia ebbene saturno in questo momento è opposto a chi è nato nei primi giorni del segno che probabilmente comincia a sentire una sorta di offuscamento di pesantezza saturno veri mette alla verifica alla prova tutto ciò che avete fatto finora quindi se avete costruito bene non dovrete preoccuparvi di nulla chi invece è della terza decade oltre all'opposizione del sole di nettuno e di mercurio sta subendo anche la quadratura un altro aspetto dissonante da parte di marte quindi ecco la terza decade io consiglio di non strafare di navigare sotto costa e di non azzardare nulla di particolare nulla di nuovo restate calmi ancora per un pochettino perché non è il momento di intraprendere nulla i più fortunati sono quelli della seconda decade in questo momento a livello di umore la luna vi aiuta soprattutto nelle giornate centrali della settimana quindi da mercoledì a venerdì con la luna in un segno a voi favorevole cercate di approfittarne gli amici della bilancia probabilmente in questo momento si sentono un po' abbandonati abbandonati perché saturno che è pianeta un pianeta governatore del segno della bilancia ha abbandonato la posizione benefica che ha avuto fino finora negli ultimi due anni e anche marte sta trascorrendo gli ultimi le ultime settimane nel segno alleato dei gemelli quindi approfittate di questo momento per mettere a punto le ultime cose cari bilanci se avete dei progetti importanti soprattutto se appartenete alla terza decade ebbene chi di voi a partire dalla seconda decade potrebbe sentirsi un po' sfortunato tra virgolette perché sta sperimentando l'opposizione di giove ma in realtà giove non porta sfortuna illumina le aree su cui bisogna lavorare illumina tutto ciò che non va bene quindi a cui bisogna lavorare per rimediare per mettere a posto quindi è un certo senso una fortuna anche quando è in posizione dissonante in questo momento il vostro alleato è soprattutto marte in un segno amico e plutone non si è ancora trasformato davvero un alleato lo sarà nei prossimi anni quindi tenete duro cari bilanci perché i prossimi anni saranno veramente una fioritura per voi a livello emotivo questa settimana inizia molto bene con la luna in sagittario quindi con buoni propositi buona energia da parte vostra attenzione alle giornate centrali da mercoledì a venerdì con la luna in un segno dissonante potreste avere dei momenti di irritazione ma il tutto cambia ancora da venerdì quindi un weekend veramente ottimo lo scorpione si sta ritemprando dopo l'uscita di saturno da una posizione dissonante e invece appunto saturno si è messo ora in una posizione benevola nei vostri confronti cari scorpioni in questo momento sta beneficiando solo chi di voi appartiene all'inizio del segno ma in questo momento anche altri pianeti stanno attraversando i pesci un segno amico e quindi sicuramente le vostre energie sono in recupero con venere che entra nel segno del toro ovvero in opposizione a partire da giovedì giovedì sera quindi quasi venerdì ebbene potrebbe portarvi un po di insoddisfazione nelle relazioni sentimentali le giornate migliori dal punto di vista produttivo questa settimana vanno dal mercoledì al venerdì attenzione al weekend perché la luna in acquario ovvero un segno dissonante vi può portare un po di malumore e il sagittario è un altro di quei segni che in questo momento alla lotteria dello zodiaco non sta proprio vincendo che il passaggio di molti pianeti nel segno dei pesci ecco non è il massimo per il sagittario perché i pesci hanno posizioni dissonante e quindi potrebbe esserci un po di calo energetico ebbene però ci sono anche tante altre cose che compensano per esempio giove nell'ariete in questo momento sta ridando ottimismo energia a chi appartiene alla seconda decade i più tartassati in questo momento oltre a chi è nato all'inizio inizio del segno sono quelli della terza decade perché hanno contro il sole nettuno mercurio e anche marte dal segno dei gemelli e quindi non azzardatevi in cose particolarmente audaci o nuove cari sagittari aspettate un attimino che le cose si risistemino e si riequilibrino le energie astrali anche per voi presto marte uscirà dalla dalla quadratura mercurio entra in un segno amico per cui insomma aspettate il rinnovamento primaverile e vedrete che sarà presto tutta un'altra musica anche per voi ebbene questa settimana la luna entra subito nel vostro segno per cui sicuramente dal lunedì al mercoledì le energie l'umore è molto buono e tutto sommato resiste fino alla fine della settimana attenzione perché la domenica soprattutto dal pomeriggio potrebbe incrinarsi un po l'umore il capricorno in questo momento non ha veramente nulla di cui lamentarsi nonostante il transito di giove in una in un segno dissonante ebbene potrebbe semplicemente limitare un pochettino il vostro vostro ottimismo la fiducia che avete in voi stessi nelle vostre capacità ma comunque questa fiducia viene in ogni caso corroborata da altri elementi per esempio tutti i pianeti che stanno passando in questo momento nel segno dei pesci che è un segno a voi positivo inoltre urano è in buon aspetto venere si pone in buon aspetto da venerdì e quindi insomma non avete veramente nulla di cui preoccuparvi perché avete tantissime energie a vostro favore luna positivissima per voi per tutta la settimana perché entra in capricorno da mercoledì a venerdì e non è veramente in segni a voi negativi per il resto delle giornate della settimana quindi andate avanti pure con i vostri progetti senza preoccuparvi possiamo definire l'acquario una posizione di equilibrio perché è vero ci sono delle dissonanze ma ci sono anche tante energie astrali a vostro favore cari acquari a vostro favore ci sono giove e a partire da domenica anche mercurio quindi le energie mentali a vostra disposizione grande afflato voglia di condividere di aprirsi e quindi dal punto di vista sia sentimentale che lavorativo le cose si muoveranno molto in fretta per voi marte è ancora in buon aspetto a chi di voi appartiene alla terza decade quindi datevi da fare per portare avanti i vostri progetti i pianeti in pesci non pongono nessun problema a voi dell'acquario mentre invece urano sta dando un po di problemi a chi di voi appartiene alla seconda decade e a partire da venerdì anche venere in posizione dissonante potrebbe turbare un po l'umore e portare qualche lamentela nelle relazioni di coppia soprattutto se appartenete alla prima decade saturno vi ha lasciati orfani perché dopo due anni e mezzo si è spostato nel segno adiacente contiguo dei pesci e però vi ha dato tanto in questi due anni e mezzo quindi vi ha permesso di costruire di mettere delle buone basi e su queste voi dovrete continuare a lavorare presto ospiterete plutone nel vostro segno che vi darà veramente una marcia in più nel frattempo questa settimana la luna è in segni positivi a voi e o neutri quindi potete andare tranquillamente alla grande l'umore non subirà alcun calo e quindi avanti tutta cari acquari e arriviamo all'ultimo segno i nostri pesci i nostri pesciolini che in questo momento stanno ospitando il passaggio di così tanti pianeti e quindi hanno il sole mercurio nettuno e saturno ben cinque pianeti a cui poi si aggiungerà la luna a fine settimana però verranno anche abbandonati da mercurio quindi le cose sono ancora molto dinamiche molto in movimento per i pesci e può veramente succedere di tutto in questo momento così come un po nella natura del segno che è confusionaria ma che allo stesso tempo attinge a un intuito un'intuizione a veramente delle aperture di coscienza diciamo così aperture cosmiche e è come se i pesci avessero le antenne per captare le energie invisibili e mai come in questo momento si potrebbe dire l'unico fastidio che stanno sperimentando i pesci in questo momento è la dissonanza di marte e qui in questo momento è attiva nei confronti della terza decade però nella terza decade in questo momento c'è anche il sole c'è mercurio c'è nettuno quindi direi che le cose si equilibrano notevolmente forse c'è persino un po troppa carne al fuoco quindi cercate di verificare se avete tutte queste energie a vostra disposizione se siete in grado di portare avanti tutto urano da una mano a chi appartiene alla seconda decade a rivoluzionare tutto quello che vuole rinnovare e inoltre venere da venerdì entra in un segno amico e quindi vi aiuterà anche ad armonizzare la vostra vita sentimentale che dire di più a livello emotivo le giornate da lunedì al mercoledì forse non saranno il massimo con la luna in un segno dissonante ma a partire dal pomeriggio del mercoledì andate alla grande e con questo ho concluso anche questa settimana e vi faccio tanti auguri per avere una bellissima settimana e trarre il massimo da tutti questi passaggi planetari e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica amarillis.com ciao 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 ciao